Nel 1944 Piazza della Resistenza a Pistoia ospitava un ospedale da campo, decine di tende sotto le quali le infermiere dell'esercito brasiliano impegnato nella guerra di liberazione del paese contro il nazifascismo prestavano la propria opera. Da due anni per ricordarle c'è un cippo con su incisi i loro nomi. Qui in occasione della giornata internazionale della donna Pistoia le ha volute ricordare con una cerimonia a cui hanno partecipato le massime autorità locali e i rappresentanti del paese sudamericano. Vuol dire ricordare tanto un legame profondo tra noi e il Brasile, tra quei soldati e quelle donne che vennero a combattere qua per la nostra liberazione. In particolare è una storia incredibile per me, fatta di coraggio, di amore, donne che lasciarono il loro paese perché non potevano essere arruolate ma ha deciso di venire in un teatro di guerra a aiutare i soldati e qualcuno ha ricongiungersi anche con il proprio amato. Proprio in questo luogo dove è stata messa questa lapide montavano il loro campo e il loro soccorso. E la cosa più bella di tutta questa vicenda è che questo piccolo monumento è stato voluto da associazioni culturali del territorio, dalla popolazione. Qual è stato il contributo di queste donne all'opera dell'esercito brasiliano nella liberazione del nostro paese? Se parliamo dell'ottica brasiliana è importante perché è la prima volta che donne hanno fatto parte di un contingente militare brasiliano. Per l'ottica della guerra è importante anche perché un gruppo di 73 donne che hanno lavorato per aiutare non solo i soldati brasiliani ma anche i soldati aliati e principalmente la popolazione italiana che a quest'epoca dopo il combattimento che abbiamo vissuto qua a Pistoia hanno aiutato anche la popolazione italiana locale. Dunque per noi è veramente un'opportunità assolutamente importante. Grazie. Grazie.